ciao ragazzi volevo raccontare la mia storia ho avuto problemi con la cocaina e sono arrivato a questa struttura tramite tramite internet per problemi lavorativi in italia il percorso è sempre molto lungo si parla sempre di almeno un anno qui il percorso è di 15 giorni quindi veniva comodo per le mie esigenze lavorative e la cosa bella è che in 15 giorni io esco domani con le cure che si fanno si è pronti per affrontare la vita in maniera diversa ovviamente prima ci deve essere la consapevolezza di avere un problema questo è il primo passo che è fondamentale dopo che si ha la consapevolezza di avere un problema occorre avere ovviamente lo stimolo il desiderio ma più che altro la grossa determinazione a superare il problema che una persona una persona ha loro ti aiutano innanzitutto ti disintossicano e ti fanno star bene dopodiché ti la cura successiva ai 15 giorni è molto capillare quindi occorre eseguire questa cura che poi dura un anno ci saranno dei controlli successivi a questi 15 giorni di disintossicazione che dureranno per un anno la struttura possiamo paragonare ad un hotel a quattro stelle rispetto all'italia sono tutte persone altamente professionali sono tutte persone che ti seguono ci sono ovviamente interpreti quindi si è veramente come se si fosse se si stesse a casa ci si sente a casa non si ha la privazione di nulla quindi si può chiamare quando una persona vuole si può uscire quando una persona vuole sempre ovviamente accompagnati si sta veramente veramente bene quindi il consiglio che posso dare nel momento in cui una persona ha la consapevolezza di avere un problema ed è determinato a superare questo problema credo che sia una delle strutture migliori che possa trovare nel panorama credo europeo